Senza l'aiuto della Regione, senza l'aiuto dei sindaci, senza l'aiuto da parte di tutti gli sponsor che sono intervenuti, sarebbe stato tutto molto più complicato. Noi siamo una realtà eccezionale nello sport, nel panorama mondiale, ma ci teniamo ad avere considerazione, ad avere il giusto posto che ci spetta per quello che facciamo da tanti anni. Quindi sono estremamente contento, con me lo è la proprietà, con me lo è i dirigenti, della considerazione e dell'affetto che le istituzioni ci hanno dimostrato in questa occasione. Il nostro sport è uno sport che deve dare emozioni e sono convinto che i ragazzi, i giovani, gli studenti, gli atleti speciali hanno qualcosa in più e di conseguenza saranno i protagonisti con noi. Quello che ci aspetta è semplicemente il coronamento di una stagione che ci auguriamo possa essere con un risultato positivo. Io penso che sia davvero un evento incredibile e come ho avuto modo di dire abbiamo questo evento, quindi questi scontri diretti per lo scudetto importantissimo della pallanuoto italiana, ma anche per i play-out, cioè per chi invece verrà retrocesso tutti in tre giorni, quindi scontri diretti incredibili. Credo che ci sarà tantissimo pathos nella piscina di Sori e questo però avviene perché abbiamo la Prorecco, perché se non ci fosse stata una squadra così forte, con un dirigente come Maurizio Felugo così tenace, non saremmo riusciti a portare in questa regione un evento di questo tipo. È sicuramente un evento importante per quello che succederà in Vasca, ma come è stato detto in questa conferenza stampa, anche per tutto quello che accadrà intorno. Quindi per i ragazzi che riusciamo a portare, le scolaresche, tutto il mondo ovviamente di appassionati, non solo che si è allertato intorno a queste tre giorni. È per questo che Regione Liguria ha voluto sostenerlo come evento, l'abbiamo fatto con una convenzione, che è un accordo di programma ad hoc fatto per gli eventi davvero eccezionali. Una formula che è un po' rischiosa per noi, perché alla fine dopo un anno di allenamenti ti giochi tutto in una partita. Diciamo che non è molto sportivo, perché potrebbe succedere delle squalifiche, delle malattie, qualche problema e dopo un anno di fatiche giocarsi tutto in una partita è una cosa che non succede in tanti altri sport. Grande l'impegno della Prorecco per l'organizzazione alla piscina comunale di Soli, perché sia una festa per tutto il territorio. Con Liguria è fuori di dubbio, stiamo organizzando veramente una cosa molto bella, molto per gli spettatori di appassionati di palanuoto, ma per qualsiasi persona, perché venendo a Soli in quelle due o tre giornate troverà certamente la possibilità di vedere una grande organizzazione, di vedere delle belle partite di palanuoto. L'opportunità straordinaria che ci viene data dalla Prorecco e della Federazione Italiana Nuoto. Noi vogliamo dimostrare che, contrariamente a quanto pensano alcuni, Soli è un territorio ideale per fare la palanuoto. C'è un ambiente meraviglioso, c'è una gastronomia splendida, c'è un impianto natatorio ai massimi livelli in Italia, c'è un intero paese che si riconosce nella palanuoto e che vuole dimostrare alla palanuoto quanto bene si possa volere in Liguria al nostro sport e promuovendo Soli e la Liguria in tutto il territorio. Organizzeremo un villaggio per l'accoglienza, stile terzo tempo del rugby, nella zona mare del paese, dove è possibile mangiare la focaccia col formaggio IGP, dove è possibile assaggiare le trofie, dove ci saranno stand, attività ludiche, tenendo insieme non solo lo sport, ma anche i valori dell'educazione, dell'ambiente e della sostenibilità. Stiamo curando con grande attenzione gli aspetti relativi ai parcheggi. È una bella vetrina per tutto il territorio, quindi non soltanto per Recco, che è la patria della Poreco Palanuoto e anche per il comune di Sori che ospita questa squadra ormai da tanti anni e in particolare ospita questa manifestazione. Ma credo che tutto il territorio in particolare ne avrà un giovamento. Ricordiamoci che il Golfo Paradiso lo riteniamo un po' la culla, la mamma della palanuoto italiana. Tante squadre hanno partecipato, tante squadre ancora partecipano ai campionati di massima serie del campionato italiano e quindi il Golfo Paradiso, ben a ragione, rappresenta largamente la palanuoto italiana. Mi sembrava logico e doveroso cercare di dare più interesse al campionato. Con questa formula in cui le prime due si fermano e le altre quattro si incrociano, forse e sicuramente magari in una partita secca le squadre di vertice potrebbero, come posso dire, avere qualche chance in più. Lo stesso dicasi per le quattro che si giocheranno in play-out. Questo sempre in relazione alle passate stagioni dove spesso e volentieri certe partite erano già scontate in partenza.